Una fine settimana da dimenticare per la maggior parte del calcio biellese, tra eccellenza e promozione. I risultati complicano i piani delle principali rappresentanti del territorio. A recriminare più di tutti è la biellese. Dopo la vittoria agevole nel derby contro la Fulgor Valdengo, i bianconeri, con Mr Rizzo nuovamente in panchina, affrontavano a Borgomanero una trasferta complicata contro un avversario di ottimo livello. Eppure tutto sembrava mettersi nel migliore dei modi. Al trentottesimo del primo tempo la biellese è in vantaggio di due reti. Prima con una velenosa punizione mancina del solito Panatti che si infila sotto la traversa. L'estremo difensore novarese poteva fare meglio ma la parabola era ingannevole. Il secondo timbro lo mette Paolo Scienza che approfittando di un regalo della retroguardia del Borgomanero si aggiusta il pallone sul sinistro infilandolo sul secondo palo. Tutto finito ma che il Borgomanero ha un'anima argentina che non molla mai. In chiusura di frazione il difensore centrale Bacaloni, che è davvero il vizio delle gol, si ritrova sui piedi una palla vagante in area. Non ci pensa due volte e in girata fulmina il portiere biellese Vallacchi. Il secondo tempo è solo rosso-blu. Il Borgomanero continua a creare occasioni. La biellese subisce e stringe i denti ma il gol è nell'aria. E che gol! L'attaccante Bonicelli, appena entrato, raccoglie una bella palla scodellata dalla sinistra e la spara al volo all'incrocio, un capolavoro che vale il pareggio. 2-2 esattamente come all'andata. La biellese si fa rimontare due gol dai novaresi. In casa, quello della beffa arrivò in pieno recupero. Nella gara di domenica invece il pareggio sta anche stretto al Borgomanero. Panatti sa la quota 17 gol, esattamente come lo stresiano Secci. E sua la firma sull'1-0 con cui i blues espugnano venaria, volando sul più 7 dalla biellese mettendo i polpastrelli sul primo posto. Pareggio 2-2 anche tra Fulgor Valdengo e Aliceso Rizzonti. Un derby in panchina tra Peritore e Mellano. Sono i vercellesi a uscirne più contenti. Al Marchese gli ospiti rimontano due volte il vantaggio della Fulgor. Adicesare e Bottone rispondono i Dalili e Gai e conservano tre punti di vantaggio sui rosso-blu valdenghesi. In promozione, i riflettori erano tutti puntati sulla bate di Cossato. La capolista ospitava il Briga, secondo a tre punti di distanza. Partita vivace e ricca di occasioni tra due squadre che non hanno avuto paura di giocarsela a fine in fondo. Cossato che passa in vantaggio con Badan, che dal limite dell'area trova la linea buona per battere il portiere dei Novaresi, a metà del primo tempo. Il Briga reclama un gol annullato per posizione di fuorigioco. Proprio quando il Cossato iniziava a intravedere la fuga, due minuti da incubo cancellano quanto di buono fatto. Una ingenuità di Marteddu in area porta sul dischetto il grande ex Marra, bravo a battere dagli undici metri il portiere biellese. Non passa nemmeno un minuto che il Briga mette la freccia con Salvatore, che spara in rete di cattiveri e fa esplodere la gioia dei Novaresi. Il Briga recrimina ancora per un gol fantasma non convalidato. Il Cossato ci prova fino all'ultimo. Alla fine, il 2-1 ospite ricorda quello di un Cossato Briga di qualche stagione fa, che valse la retrocessione in prima categoria ai Blues. Quello di domenica è certamente meno amaro, perché adesso le due compagini si contendono il salto in eccellenza, a pari punti in classifica e la parola fine non è ancora stata scritta. Pareggio anche tra Piedi Mulera e Vigliano. Succede tutto nel primo tempo. Con uno strano diagonale Roncarolo porta in vantaggio i biellesi. Qualche minuto dopo Ceschi pareggia per i gialli Ossolani. Sorride solo la Chiavazzese, che supera 3-0 il Biancè, gol di Mijla e doppietta di Valienti. Blue Cremisi, che agganciano il Vigliano, tre punti preziosi per la lotta a salvezza.